Studio 7 TV e Sport Piccelo Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite una band in questo caso parliamo di un membro della band del Stil Novo, Alessandro e a questo punto la domanda che ci sono più spontanea se dovessi descrivere Stil Novo oggi, chi sono e come le scrivesti? Una bella domanda, diciamo che oggi sono un'evoluzione che è stata fatta in circa dieci anni da quando li seguo io come produttore oggi sono una band che sicuramente è maturata è andata più nella direzione del rock rispetto a come è partita che era un pochino più, mi viene da dire quasi folk, cantautorale, acustico oggi è una band sicuramente rock che strizza l'occhio al rock diciamo d'oltremanica, quindi al Brit Rock ma con testi assolutamente in italiano e con melodie ovviamente che sono anche influenzate dal nostro bel paese però insomma diciamo che è un rock un pochino non all'italiana diciamo per certi versi A questo punto parliamo dell'ultimo singolo che è chiaramente Rockstar poi come nasce questo brano della cosa tra ispirazioni presente che il titolo forse è un pochettino rappresentativo sì guarda in realtà proprio mi collego alla domanda che mi hai fatto prima ho appena detto che è una band che è diventata molto più rock poi di fatto questo singolo è il meno rock di quelli che abbiamo in mente e di quelli che sono stati fatti uscire negli ultimi anni diciamo che è nato come un gioco tra virgolette nel senso che il testo è una parodia che dice tipo appunto paragona gli eroi, i supereroi quindi per esempio gli eroi della Marvel alle Rockstar e le Rockstar diventano supereroi che con la musica riescono a salvare vite, a salvare il mondo quindi diciamo è un testo molto scherzoso molto scanzonato, perdonami il termine e anche il brano a livello di arrangiamento è un pochino più poppeggiante tra l'altro in questo singolo c'è anche una delle novità oltre a questo genere un po' diverso dal solito che è la voce di Luana Bellucci che canta appunto in questo singolo per la prima volta nel listo il nuovo infatti noi vediamo far riferimento alla terza domanda che compariva, è comparsa una voce femmile che in mente nella band non c'era quindi ha dato un qualcosa in più questa voce graffiante ma nello stesso tempo elegante sì, beh Luana, permetto che Luana la conosco da vent'anni ormai e lavoriamo con lei per altre cose, altri progetti gli stessi Stil Nova hanno lavorato con lei in altri progetti di cover quindi non è diciamo una persona che abbiamo conosciuto ieri le sue qualità sono ovviamente le senti, le hai sentite e quindi ci ha dato sicuramente una grandissima impronta diciamo diversa dal passato e soprattutto molto adatta anche a questo singolo e l'esperienza è stata talmente bella e siamo stati talmente contenti della sua interpretazione ma anche della sua presenza scenica perché se hai avuto modo di vedere il video lei è anche una che veramente buca la telecamera e siamo talmente contenti che comunque probabilmente le cose andranno anche avanti con lei quindi abbiamo già qualche progetto in mente non c'è niente di certo però stiamo lavorando per trovare qualche altro singolo bello anche per lei appunto citando il video quando nasce questo video come nasce da cosa tra ispirazioni abbiamo visto un casato con tanti ospiti poi questo cameriere passa poi qualcuno beve poi alla fine di questo video sì c'era roba finta da bere purtroppo era tutta roba analcolica però l'idea del video nasce come quasi tutti anzi direi tutti i video dai due fratelli che sono Viam e San Antonio e Arcuri che tra l'altro citiamo perché sono i due fondatori della band nonché quelli che scrivono la maggior parte ma direi tutte perché sì in effetti se le dividono diciamo ma le scrivono loro le canzoni suonano chitarra, cantano anche loro e loro sono gli ideatori di tutte le sceneggiature dei video che poi vengono realizzate in collaborazione con il nostro ormai regista e montatore di fiducia che è Simon Barletti quindi come nasce lo dovresti chiedere a loro diciamo che hanno sempre un'idea che si rivela molto azzeccata nei video devo dire la verità danno molta importanza al video cosa che io non faccio da produttore musicale per me il video è un b-side in realtà loro lo curano molto e secondo me questa cosa poi si vede perché in effetti le idee sono sempre molto azzeccate e in questa festa succede che arriva questa band che sconvolge un po' gli ospiti che sono tutti un po' eleganti, sciccosi saliamo sul palco noi e facciamo un po' di casino e a questo punto ti faccio visto che sei produttore l'immagine, la sensazione che hai provato la prima volta che come produttore l'hai sentito davanti ce l'hai avuto e hai detto ok ragazzi suonate a quel punto quando l'hai finito a sentire suonare più hai cercato di vedere i loro occhi e capire nelle tue parole quando tu descrivevi quello che avevi ascoltato quale sensazione hai capito o hai cercato di immaginare che loro avessero rappresentato nelle tue parole una cosa un po' complessa per domanda sì ma adesso penso di averla capita vediamo se ho capito ti provo a rispondere io in loro ho trovato da subito una grandissima capacità di espressione nei testi e nella musica cioè secondo me loro sono dico loro perché io sono il loro tastierista anche attualmente quindi ho un doppio ruolo suono le tastiere dal vivo faccio gli arrangiamenti come produttore e quindi insomma diciamo sono il discografico faccio molte cose però diciamo dico loro come se adesso io fossi solo il discografico loro hanno questa capacità di scrivere veramente fuori dal comune devo dirlo perché dopo più di dieci anni che lavoro con loro la vena non si è ancora esaurita e non è una cosa banale perché le canzoni sono tantissime e sono comunque tutte valide poi ovviamente ci sono canzoni di periodi diversi che magari li rappresentano meno oggi però sono comunque canzoni che mi hanno colpito da subito proprio per la loro la loro diciamo originalità ma nello stesso tempo nel non essere strani per forza non so se mi capisci cioè non banali ma neanche voler per forza fare cose che non si ascoltano che non capisci da dove comincia da dove finisce quindi queste due caratteristiche insieme allora e allora eravamo tutti molto più immaturi quindi c'era ancora molto da lavorare però mi hanno colpito da subito non so se ho risposto alla tua domanda perfettamente invece a questo punto come arrangiatore perché la quale difficoltà si trova avendo poi un testo che è scritto da un altro amico anche se poi tu sei il produttore però andare a modificare cercando di capire effettivamente dove poter ottenere il risultato migliore o dare un senso un vestito più elegante a quel brano quale difficoltà ci sono ma allora la parola difficoltà è proprio la chiave nel senso che io tendenzialmente lavoro come produttore ovviamente se uno mi commissiona lavoro non è che dico non lo voglio fare perché ho anche clienti che non necessariamente diventano prodotti che poi distribuisco con l'etichetta però con loro questa cosa non esiste cioè la difficoltà non c'è nel senso che uno o loro sono comunque già molto preparati hanno le idee molto chiare e quindi arrivano già con un prodotto che si capisce dove vuole andare e poi tra di noi è cresciuta questa intesa e quindi quello che all'inizio era un trovarsi bene oggi è diventato un vero e proprio feeling quindi diciamo che io credo poi dopo magari devi chiederlo a loro ma direi di sì credo di interpretare al volo un po' quello che loro hanno in mente e come hai detto tu magari con il mio apporto do un pochino di vestito e quindi posso indirizzarli e dire magari questa cosa la facciamo in questo modo quest'altra nell'altro però per esempio sui testi non ho mai messo becco come non non lo metto quasi mai sulle melodie diciamo io intervengo un po' sulla parte armonica cambio un po' a volte gli accordi le stesure e ovviamente sulla parte degli arrangiamenti invece dove do un pochino più di di apporto mio personale considerando che è una band e siamo una band ma che loro sono una band prima ancora che ci sia io insomma le cose vengono abbastanza facili e la sensazione che si riprova salendo sul palco perché chiaramente sale sul palco lo vivi in doppia peste sicuramente quali sono le sensazioni che prima di cui c'hai avanti un pubblico una platea dove in realtà è buio ma tu senti anche se sei concentrato sul fatto di non sbagliare però senti quell'energia sotto anche se c'è il buio però senti quell'energia che sale che ti trasponde che tu puoi rimandi con la musica con tutta l'emozione che generi con le tue canzoni con le vostre canzoni qual è la sensazione proprio in quel caso l'hai già un pochino l'hai già un po' spiegata è proprio questo è un po' perdonami il termine però è un po' una droga è un po' come veramente entrare in una sorta di trip mentale e fisico nel senso che la musica poi passa come hai detto tu attraverso di te arriva al pubblico torna indietro io sinceramente non saprei come fare senza il palco perché oltre a fare appunto il musicista il tastierista ho fatto per anni il cantante secondo me il palcoscenico è una cosa proprio alla quale non riuscirei mai a rinunciare in un modo o nell'altro salendo come tastierista posso dirlo ormai dopo 30 anni di esperienza la paura di sbagliare non ce l'ho più diciamo che posso avere paura di non essere al top ecco quello sì cioè magari di non trasmettere come hai detto tu e quindi di non divertirmi e quando non ti diverti poi il pubblico lo vede e questa è l'unica paura che posso avere ma per il resto la sensazione è solo bella non ci sono non ci sono paure a quest'età poi quando avevo vent'anni sai che paure che avevo quelle sì invece poi scendendo al palco incontri le persone che ti pongono ti salutano oltre che ti chiedono forse qualche selfie o fa il catografo ma quale sensazione proprio vedere nelle loro perché hanno dedicato quel tempo e hanno liberato la loro mente ascoltando le vostre canzoni e quel momento vedi nei loro occhi quella forse quel sei riuscito a raggiungere quel messaggio che la band voleva mandare quel momento che sensazione provi eh quello è il coronamento di tutto nel senso che ovviamente qui ho un discorso filosofico molto complicato eh l'arte può esistere anche se la tieni in casa no tu ti fai una canzone te la suoni te la canti te l'ascolti e dici come sono stato bravo che bella così no però si finalizza quando c'è un ascolto anche esterno cioè quando c'è una comunicazione quando c'è qualcuno come hai detto tu che magari ti ferma e ti dice che bella canzone come avete suonato bene che belle parole eh come hai cantato bene insomma tutte queste cose che alla fine ti danno un po' il senso di quello che hai fatto anche se non dovrebbe essere il successo l'obiettivo finale dell'artista però è inutile negarlo è bellissimo e quando succede è il ripagamento di quello che hai fatto a prescindere da tutto dalle classifiche della radio agli streaming quello che conta di più è la gente ovviamente che ti viene a vedere e tra l'altro abbiamo la fortuna di avere dei live proprio tra poco abbiamo un primo concerto venerdì in provincia di Ravenna poi faremo altri tre nel bolognese nel modenese quindi cominciamo un mini tour e questa cosa ci fa molto molto contenti ovviamente aspetto che hai cantato anche quindi hai composto hai scritto a questo punto nascono prima la melodia un beat un riff oppure nasce la prima la parola oppure possiamo dire che in caso strano si incontrano e nascono insieme queste ah sì non c'è una regola probabilmente ognuno ha la sua qualcuno forse ti dirà io faccio sempre così io no io tendenzialmente vado a momenti ci sono momenti in cui magari suono e mi vengono cento musiche poi dopo magari nessuna mi interessa nessuna mi piace le abbandono e la volta che magari viene una musica che dico vale la pena di metterci il testo e ce lo metto sopra viceversa può succedere che ti vengano delle parole quando vengono insieme per esperienza è una bomba cioè nel senso buono cioè di solito quando l'ispirazione arriva a confluire che la musica e le parole si intersecano già mentre la canti già la stai suonando allora nove volte su dieci è venuta fuori è una bella canzone bella per te ovviamente nel senso poi magari agli altri non piace però è vero che io sappia i miei colleghi di gruppo nonché fondatori della band non hanno un sistema per scrivere rispetto a un altro credo che anche loro ti risponderebbero come ti rispondo io sicuramente Viammes è quello più legato alla parte del testo però è anche uno che studia molto quindi è anche uno che magari il testo te lo valorizza già mentre lo scrive proprio per la metrica che ha in mente per il genere di canzone quindi credo che abbiano tutti e due un approccio simile al mio a volte parti da una parte a volte dall'altra e poi quando arrivi insieme vuol dire che è la volta buono a questo punto in parte già mi ha risposto presci più testi longevi come nell'italiano che sono molto descrittivi più romanzeschi oppure come l'inglese dove il sintetico rappresenta un pochino meglio allora se ti devo rispondere io come Alessandro Maiani ti rispondo il sintetico io sono tendenzialmente anglofono cioè per me la musica inglese è innegabile ha una facilità di canto è un suono che a me piace di più poi dopodiché ci sono degli esempi italiani di grandissimi artisti vedi il mio concittadino compianto Lucio Dalla che sono riusciti a fare testi e musiche eccezionali fondendo la lingua in una maniera incredibile gli stessi Stil Novo io li ammiro tantissimo perché quando c'è la scrittura in italiano e la sonorità riesce a essere così british come si dice secondo me funziona bene quindi loro sono anche abbastanza già nella direzione in cui andrei io però per esempio a me piace più il minimalismo Viammes scrive già un pochino più elaborato come testo se hai modo se hai avuto modo di ascoltare anche delle vecchie produzioni nelle loro canzoni ci sono molto sto continuando a parlare in terza persona nelle nostre canzoni però ci tengo a dire che le scrivono loro non voglio prendermi il merito della scrittura comunque nelle canzoni di Viammes Antonio ci sono spesso dei racconti delle cose che iniziano e finiscono quindi quasi delle narrazioni più che poesia diventa quasi prosa ma nello stesso tempo suonano bene questa è una cosa per esempio che ammiro molto e che io però tendenzialmente non faccio come autore per me stesso e a questo punto mi ricordo se ci rimangono il danno noi ti ringraziamo per essere stato ospite grazie a te a primo ci sono artisti la domanda ormai viene spontanea e si ripete sempre perché sicuramente qualcuno l'ha fatta gli artisti in cui è tratto saputo trarre quella quegli elementi di caratteristici che poi hai fatto tuoi e hai adattato le tue caratteristiche non hai rubato ma hai adattato le tue caratteristiche ci sono artisti ma guarda secondo me tutti viviamo di questa cosa che ne siamo consapevoli o meno cioè chiunque di noi è cresciuto in una certa epoca dove si sentivano una determinata musica poi magari in casa tua si sentiva una musica in casa mia un'altra perché poi i genitori ti influiscono o i parenti gli amici ecco io sono cresciuto con la musica degli anni 80 perché tanto la mia età non è un segreto quindi negli anni tra gli anni 80 e l'inizio del 90 ero ragazzo e quindi per me quella musica mi ha in qualche modo scolpito dopodiché ho continuato ad ascoltare io continuo ad ascoltare tantissima musica mi piace tantissimo anche la musica moderna tutto quello che viene fuori dai cantautori italiani che vengono definiti per ragazzi ma in realtà secondo me hanno anche delle ottime cose da dire e quindi le sonorità in realtà ti entrano dentro anche senza volere io se ti devo dire che c'è un qualcosa che mi ispira più di un altro non te lo so dire se ti devo dire un suono che mi fa impazzire se vuoi mi sbilancio e vado negli anni 80 e se sento gli arrangamenti e i suoni di una band che si chiama Tears for Fears non so se conosci ecco lì io dico alzo le mani perché qua siamo di fronte per me a capolavoro assoluto però non significa che io riesca a mettere quello che facevano o che fanno loro nei miei lavori però diciamo che mi hai chiesto un'ispirazione e quello sicuramente per me è un modello ecco a questo punto progetti futuri si parte già con il live e soprattutto a questo punto progetti futuri dove potervi raggiungere e potervi ascoltare e i saluti finali allora guarda i progetti come hai detto tu c'è un mini tour che parte proprio venerdì 12 gennaio quindi tra poco a Cotignola Ravenna adesso non ricordo il nome del locale ma mi verrà in mente ah Beer Garden si chiama Beer Garden e poi dopo faremo due date nel bolognese una a San Giovanni in Persiceto e una a Castelmaggiore e una data nel modenese a Vignola quindi facciamo quattro date poi dopo ne abbiamo già in mente altre che vogliamo fare per la primavera estate questo è il primo progetto dopodiché come ti dicevo questa prima canzone con la voce di Luana ci è piaciuta quindi stiamo pensando di fare un secondo singolo sempre con la sua voce e abbiamo già sette otto se non nove canzoni pronte o quasi quindi già solo da rifinire quindi sicuramente usciranno nuovi singoli nei prossimi mesi e dove poterci sentire vabbè so i social ovviamente Instagram Facebook Twitter Gli Stil Novo basta cercare Gli Stil Novo tutto attaccato anche con l'articolo e li trovate e ovviamente sulle piattaforme di streaming perché ormai tanto i cd non esistono più la gente ovviamente ascolta con queste piattaforme che sono Spotify Apple Music Amazon adesso mi vengono in mente altre YouTube e così via e anche lì basta scrivere Gli Stil Novo e trovate sia i nuovi singoli sia ovviamente anche tutta la produzione precedente che comunque vi inviterei ad ascoltare perché anche se magari alcune sono un po' jè come si dice come produzione però sono veramente delle chicche ci sono alcune canzoni veramente belle i saluti finali grazie grazie per avermi ospitato io saluto ovviamente il pubblico e anche i miei compagni di gruppo che sono vi ridico i nomi di Viamese Antonio Arcuri però citiamo anche la sezione ritmica Fabio Biaggi della batteria Andrea Marchesi al basso Luana Bellucci alla voce per questo singolo e basta saluti a tutti e grazie Studio 7 TV e Sport Picciano Game hanno presentato l'intervista di Pietro ospite della puntata tardi a tutti a tutti i nostri r Ciutani a tutti i nostri a tutti i nostri vi all'imperto vi